Il Catanzaro chiude il girone d'andata con una sconfitta trappani, una gara particolare che il Catanzaro avrebbe potuto anche vincere. A un certo punto Canutè sul rigore ha avuto l'occasione del 2-0, però si sa il calcio è davvero strano. Invece da una possibile vittoria ci troviamo qui a raccontare una sconfitta brutta per come è maturata. Però oggettivamente onore al Trapani, una squadra che dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'impatto della gara ha dimostrato di valere la posizione che ha. Dall'altra il Catanzaro ha interpretato con le proprie caratteristiche questa partita, arriva uno stop dopo 10 risultati utili consecutivi. Con me Matteo Pirritano, che impressione ha avuto di questa gara e ora ci sarà neanche il tempo di leccarsi le ferite perché il 30 si rigioca contro il Potenza. Ne avevamo parlato proprio in occasione della striscia post gara, dell'ultima partita che c'era stata, analizzando proprio quella che poteva essere la gara con il Trapani. Ci aspettavamo un Catanzaro come lo abbiamo sempre visto, quindi con le idee chiare in campo. Dall'altra parte però c'era il Trapani, una squadra che in casa aveva perso solo contro la Juve Stabia, 9 vittorie di fatto, anzi 8 vittorie e una sola sconfitta. Una squadra che quindi in casa ha sempre fatto il suo punto di forza e i maggiori punti li ha sempre fatti in casa. C'era la possibilità di andare lì e scavalcarli addirittura e ci stavamo riuscendo perché nel primo tempo è stata una gara molto tattica, ancora di più se vogliamo, mentre nella ripresa è stata più confusionaria. Eravamo avanti 1-0, c'era stata anche la possibilità per loro di rientrare subito in partita, quindi due calci di rigore. Di fatto poi analizzeremo gli episodi arbitrali, ma fino a quel momento girava tutto a nostro favore. Poi come spesso accade nel calcio, non la chiudi quando hai l'episodio dopo appena 5 minuti della ripresa e da lì nasce un'altra partita. Lo dicevamo anche prima a telecamere spente, forse c'erano state 3 gare in una. E dopo la seconda gara, quindi dopo l'1-1 che c'è stato da parte loro con una grandissima giocata individuale, un calcio di punizione perfetto da parte di Tagurdo, che aveva già deciso con questa giocata il match contro il Rende, quindi lo sapevamo che ci poteva far male da lì. E poi è nata un'altra gara, l'ingresso di Insola ha aiutato sicuramente il Trapani da un punto di vista fisico a tenere lì il Catanzaro. Il Catanzaro si è abbassato, condizionato anche da quelli che sono stati e i problemi prima dell'inizio della gara, e poi le ammunizioni e i calcoli che ha dovuto fare Auteri in vista di potenza tra diffidati, squalificati. E quindi non era poi facile anche ritrovare la compattezza di squadra negli ultimi minuti di gara. Hai detto bene ed hai anticipato quello che è un tema anche di questa analisi. Cioè si è parlato molto delle sostituzioni che a un certo punto Auteri ha fatto nel secondo tempo, fuori Canutè che fino a quel momento, al di là del rigore sbagliato, però era stato uno dei più pericolosi, anzi il più pericoloso in fase offensiva. Di fatto il Catanzaro dal momento in cui è uscito Canutè ha smesso di creare pericoli alla difesa siciliana. Ecco, questo tema potrebbe essere, potrebbe dare qualche spunto di approfondimento, però c'è da dire, se proprio vogliamo analizzare la cosa in maniera completa, che avevi già detto tu, molti calcoli in vista di potenza, perché con le ammunizioni rimediate oggi salteranno la partita Riggio e Giuliano, da qui probabilmente la scelta anche di togliere Maita, che è quindi mettere, esatto, e farlo rifiatare, e soprattutto aveva anche lui un'ammunizione. I problemi fisici, perché sapevamo già di Figliomeni, che infatti non è stato convocato, Signorini che doveva giocare, si è infortunato prima nella fase di riscaldamento, l'Ame dopo 30 minuti, insomma squadra falcidiata a potenza sia dagli infortuni che dalle squalifiche, sarà, dalle squalifiche, questa sarà probabilmente anche un tema della prossima partita, e bisognerà subito mettersi alle spalle questa sconfitta. Sì, beh, insomma, ci aspettavamo il regalo, diciamo, da scartare oggi di 26, e non sarebbe stato bellissimo riuscire addirittura a girare a quota 34, in seconda posizione, allungare a 11 la striscia di risultati utili e consecutivi, però direi che da Catania, da quando è ricominciata questa cavalcata e iniziata questa cavalcata, ad oggi direi che, insomma, possiamo essere molto soddisfatti del bilancio della squadra, di come la squadra è sempre stata in campo e ha anche affrontato le difficoltà che ha avuto durante questo cammino tra indisponibilità, qualche acciacco e anche, e ne parleremo, gli episodi arbitrali. Adesso si riparte, il Potenza lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo visto nella gara d'andata, la prima è un'altra squadra, ha cambiato allenatore, ha sicuramente anche lei in casa uno dei suoi punti di forza, vedremo soprattutto come Auteri ricostruirà e assesterà la fase difensiva, il pacchetto difensivo, perché lì, assoluta emergenza, con la speranza che possa recuperare Figliomeni, e capire più che altro come sta Signorini, quindi se è stato risparmiato proprio in vista di potenza, consideriamo insomma che lui veniva già da altri problemi fisici, e quello sicuramente un po' ci preoccupava, insomma, di arrivare a giocare queste due gare senza uno tra Rigio e Celiento, entrambi erano diffidati, abbiamo perso Rigio, Celiento ha fatto anche oggi una grandissima partita, quindi si ripartirà da lui per la difesa di Potenza sicuramente. Poi c'è Nicoletti, ne manca uno. Ne manca uno, poi insomma questo ci penserà a Auteri. Certo è che la gara di oggi qualcosa la dice, dice intanto che il Catanzaro non riesce mai a ribaltare un risultato, non è mai capitato nel corso di questo campionato, e questo è un dato che poi può essere interpretato come si vuole, però certamente sotto il profilo caratteriale, e questa gara poi sarà anche perché l'arbitro era lo stesso di Caserta, ha ricordato per certi versi proprio quella gara, con un Catanzaro che a Caserta probabilmente giocò meglio rispetto a quanto fatto oggi, però ecco, con le grandi di questo campionato, cioè parlo della Juve Stabia, parlo proprio del Trapani, tranne ecco il Catania, il Catanzaro l'ha sempre, non dico steccata la partita perché non si può parlare di gara steccata, però ecco non è riuscito a dare quella impronta definitiva al campionato. Ce lo hanno detto a dire la verità, ecco, questo è un anno nel quale il Catanzaro deve provare davvero a confrontarsi a un livello più alto. Avevi accennato tu secondo me una cosa, ecco il Trapani che inserisce a un certo punto un Zola, un giocatore fisico che riesce anche a favorire una fase positiva della squadra, ecco, forse il Catanzaro in questo momento manca di questo tipo di giocatori e sarà tema anche del mercato di riparazione. Sì, sicuramente, insomma, il mercato di riparazione di fatto è già iniziato, si aspetta solo l'apertura ufficiale che si giochi questa gara, poi vedremo dove andranno ad intervenire. Sicuramente il Trapani ha dimostrato di essere probabilmente la squadra migliore che abbiamo affrontato fin qui, una squadra organizzata che forse anche in questo caso per la prima volta una squadra ci ha messo in difficoltà in mezzo al campo. Al di là di Corapi hanno comunque sempre creato superiorità numerica e hanno poi sfruttato l'arma a Zola, comunque l'opportunità di affiancare a Evaco un giocatore di qualità e di stazza fisica, proprio anche con l'intenzione di abbassare la linea difensiva del Catanzaro e tenerci lì con questi palloni che vengono a fare confusione e alla fine possiamo dire forse anche che la confusione del Trapani aiutata dall'arbitro ha pagato. Sì, diciamo, non a caso negli ultimi minuti poi il Catanzaro non è mai riuscito ad affacciarsi, a creare pericoli. Ecco, in chiusura, per dare una sintesi definitiva di questa gara, è chiaro che pesa anche la scelta, alcune valutazioni arbitrali, al di là dei calci di rigore, di cui onestamente il più netto è sembrato il secondo fischiato a Canutè, il 2-1 del Trapani onestamente non sembra fallo su Furlan perché all'inizio l'azione è molto confusa, ci aveva dato l'impressione che potesse esserci un fallo su Furlan, in realtà però non si è capito se il pallone abbia completamente varcato la linea di Porto o meno, anzi a me è sembrato che non lo abbia assolutamente varcato. Questo ecco lascia un po' la mare in bocca perché facendo, insomma, unendo i puntini degli errori arbitrali o comunque delle valutazioni negative per il Catanzaro, c'è un bel bottino di punti che il Catanzaro ha lasciato per valutazioni arbitrali che continuano a, ecco, nel dubbio quantomeno continuano a essere negative al Catanzaro, però è un elemento che va raccontato sicuramente, va detto, va sottolineato, certo è che il Catanzaro oggi non ha perso per le valutazioni arbitrali, ha perso perché, insomma, non ha messo dentro... Gli episodi a volte possono anche girare contro, ripeto, potevamo andare sul 2-0 dopo appena 5 minuti della ripresa, probabilmente sarebbe stata un'altra gara e stavamo in questo momento parlando di altro e chissà magari ecco i tifosi e gli amici che ci stanno seguendo che discorsi avrebbero fatto, però è in dubbio un fatto che fin qui gli episodi arbitrali non hanno mai, diciamo, girato a favore del Catanzaro senza fare nessun vittimismo, analizzando sempre quelle che sono state le prestazioni della squadra che fin qui probabilmente ha sbagliato 90 minuti in tutto il girone d'andata mettendo insieme alcune partite, però ecco, ancora una volta un episodio proprio limite che probabilmente non sapremo mai se effettivamente la palla è entrata o no, ti gira contro in uno scontro diretto e ovviamente fa la differenza alla fine. Vabbè, speriamo che a fare la differenza siano altri episodi a Potenza, è una gara che Matteo teoricamente dovremmo raccontarvi dal vivo perché dovremmo essere lì a Potenza, un abbraccio davvero a chi invece oggi 26 dicembre ha seguito la squadra fino a Trapano, abbiamo visto lo spicchio del settore ospiti colorato di giallorosso, un grazie a tutti gli utenti di oscatanzaro.net, un grazie a Matteo Pirritano come sempre e un grazie a G-Auto di Alessandro Gentile, il nostro sponsor.